salve a tutti ragazzi e benvenuti da shiva in questo nuovo video di minecraft della project osu 3 bene oggi cosa facciamo ho fatto una cosa semplicissima allora non ho fame lo so mi dispiace non mangio mai sono a dieta insomma spondiamoci di sto caramello qui allora cosa faccio cosa ho fatto ho fatto così ho preso quello che ne usciva e l'ho cotto perché se lo cuociamo esce lo zucchero molto semplice molto bene ho fatto lo zucchero ne ho fatto un po' non messo da parte qui perché tanto lui cuoce veloce 31 ne tanto lo so però e quindi l'ho fatto e ha preso il fungo che era qua che è già ricresciuto ma una miseria ma è una farma istantanea questa e quindi cosa andiamo a fare andiamo a fare che mettiamo questo mettiamo questo mettiamo quello e finalmente abbiamo l'occhio di ragno di quel cavolo di coso per fare questo e lo mettiamo dentro subito così lui ce lo trasforma in avvelenamento massiccio non mi ricordo come si chiama e poi dobbiamo metterci per farla lanciabile e cos'è che c'è andava già la polvere d'asparago mi sembra vediamo se ce ne abbiamo un po dovremmo averci abbiamo messo da parte ecco va bene andiamo pure ok ho sentito il blu 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 e siamo a postolo quindi adesso ci fa change di danno istantaneo sì sì e adesso lo facciamo lanciabile che bello e adesso dobbiamo andare mentre lui fa la attiviamo i tempi riativiamo un attimo il mob banner mettiamo via un po di roba dai ragazzi perché c'ho sempre del sangue di roba dalle belle adesso devo mettermi via un po' di roba è sempre così questa luce fluttuante è ancora lì mi fa piacere allora redstone perfetto mettiamoci anche la palla di neve mettiamo questi, mettiamo questi, mettiamo quelli ok mi sono liberato, non ci credo adesso andiamo ad attivare il mosponer un attimo perché questo l'aveva finito no? si le pozioni di lancia istantanea ok ho fatto anche un progresso di danno, ho detto di danno istantaneo allora per attivare sto corso è facile basta fare così e basta fare così sono già arrivati avete visto? allora dobbiamo avere un po' di fortuna ragazzi perché non è facile speriamo bene devono arrivare assolutamente ok adesso incomincerà ad andare proprio tutto si, i denti stupoli si mandano fuori oh non vedo niente, non vedo ahia, mucca questa è la mucca che fa così maledetta ok niente ancora eh non siamo stati fortunati tanto abbiamo un sacco di roba che buttiamo via vedete quanta roba ci dà dimmi che te mi dai qualcosa di buono mi ha dato un cazzo vero? eh dobbiamo aspettare che ci sponi quel fantasmino fantastico fantastico fantasmino che mi serve assolutamente ma danno con la velocità spada si ricarica subito un enderman ciao enderman mi dai un fantasmino vero? ok ok aia aia mi ha fatto male infatti mi stanno arrivando io voglio il fantasma perché devo avere il fantasma assolutamente chi è? andiamo un po' fantasma arrivi? dove sei? non vedo niente eh non arriva ragazzi non arriva il fantasmino a me mi serve il fantasmino eccolo l'ho visto l'ho visto dove sei maledetto me l'ha dato? me l'ha dato? me l'ha dato? me l'ha dato ragazzi me l'ha dato chiudiamo subito un mosponer per carità di dio perché adesso ci serve ragazzi ce l'abbiamo fatta non ci credo festeggiamo mi hai dato un altro? mi hai dato un altro? ma io un altro lo prenderei sai? perfetto me l'ha dato l'ha messo qua vedete come? così avete visto anche come si fa ok benissimo ragazzi sono felicio tanto felicio adesso vi faccio vedere come funziona allora dobbiamo prendere una cosa che ne abbiamo così tanta che non so proprio dove buttarla e si chiama sapling cioè albossero scusate in italiano un pezzo di terra un pezzo di terra? dove l'ho messo la terra? mi sono scordonato dove l'ho messo la terra ok ecco la terra facciamo qua e facciamo qua e poi ci mettiamo questo ho fatto una figura di merda? ho fatto una figura di merda ok io mi dimenticavo sempre che ho l'abilità incredibile di far crescere tutto e quindi mi ha fatto un albero che il più gigante che potesse fare me l'ha fatto e quindi e quindi ho fatto una figura di merda applausi applausi e tanti saluti allora mi serve un pezzettino di terra senza che mi muova perché se mi muove un casino di sotto se c'è un po' di tetto non cresce e qui non cresce niente così sono a posto allora due pezzi di terra mettiamolo mettiamolo qua così sono sicuro che qui non cresce niente mettiamo il nostro sapling qui così così non cresce niente qui facciamo così ok trasformato ragazzi perfetto ne trasformiamo un altro clic e trasformato grande così ce l'abbiamo fatta non ci credo festeggio festeggio allora abbiamo due sapling adesso il resto buttiamo via perché non mi interessa niente la mela anche via questo via lo sufo mi serve questo teniamo tutto e buttiamo via questo la terra posso fare quanto ne voglio allora mi serve questo ma prima di tutto io avevo da parte uno di questi e poi avevo da parte anche l'hopper che chissà dove ho buttato caro hopper ti scrivo allora mi servono quattro di queste un po' di questi un po' di questi che li ho già allora vado a prendere l'hopper che ho messo da qualche parte così vi spiego tutto bene finalmente possiamo accedere al wireless e faremo spawn è nuovo eccoli qua ho detto che questi non andavano certo male un'altra cassa grazie e ho detto che mi serviva qualcosa ma mi sono scusato cosa dovrei avere tutto mi serve dell'argilla argilla dovrei avere cinque me ne servono quante ne ho? non la vedo sono cieco sei mamma mia che culo me ne servivano cinque e siamo a posto mamma mia che bello mettiamo via questo allora mettiamo via questo e siamo a posto la cuociamo un attimo ci metterò trent'anni però almeno vi faccio vedere la pozione la mettiamo via per carità che se la butto è un casino allora intanto facciamo un buon site hopper qua è l'inverso e qui siamo a posto poi facciamo la cassa tanto che lui cuoce con calma la facciamo la cassa così vi faccio vedere bene cosa si fa è che figata diventa allora facciamo questo qui basico e facciamo questo qui cassa a quattro perfetto un hopper facciamone due facciamo due casse dai facciamo due casse ovviamente non ho la roba e le casse come ce le ho tante usiamole non mi ricordo mai le ho messe tanto lui sta cucinando quattro ok perché voglio fare questo perché vi spiegherò una figata che ho in mente di fare e come si fa se potete più ve lo faccio vedere poi ve lo spiego se no non ci si capisce niente io spiego già malo allora 5 perfetto andiamo qua facciamo questo perfettico facciamo questo facciamo oh mi si guarda il dito facciamo questo e ovviamente l'ho fatto male mettiamo via gli hopper ecco qua questa qui l'apro così non la toggo dei marroni che non ce la faccio più vederla ferro e questo lo buttiamo via ok buttiamo via la bug eccoci qua questo ne servirà questo lo usiamo e ci siamo liberati un pochettino dove mi metto posso mettermi anche qua perché questa è una roba molto utile e quindi la voglio portare di mano i due bonsai e questi ovviamente mi serve la terra che prima ho buttato è stato bravo eh accidenti allora vediamo se non può qua se non è un po' qua ok allora andiamo a mettere qui subito questo qui subito questo qui subito questo qui subito quello perfetto cosa succederà qua io ho l'abilità ma qui funziona solo con bom mill che adesso ho buttato ovviamente va bene cosa succederà questo qui sponerà ogni tanto quel materiale che io ho usato per fare il sapling quel materiale che spona lì adesso vi faccio vedere cosa serve perché non mi ricordo come si chiama in più fa il tronco trasparente cosa che io adoro guardate adesso è già trasparente di suo così però guardate che figata si vede attraverso e grazie a questo a questa tipologia di legno posso fare il mio spone trasparente ed è bellissimo fantastico ok questo è il primo passo e sono felice però se tu mi sponi quell'altro pezzo io posso spiegare il resto del video me lo sponi vado a prendere un po' di ossa intanto ne ho tante di polveri ne ho messe qua eccole sono qui anche queste ne faremo tantissime a fare che non sappiamo più dove buttarle ok vai così vedete come va veloce è quasi istantaneo perfettico vai così che è una figata dopo tutti questi che fai dovresti darmi un po' di roba vai 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 su 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 dai ok finiti esatto ok questi qua servono per fare queste stringhe che servono per fare altre cose che dopo vi farò vedere per fare questo lingotto che mi servirà per il crafting per fare finalmente non questo non questo questi che sono i transfer questi qua transferiscono fino a 2000 qualcosa quelli dopo di questo vi faccio vedere ma un'altra cosa importante sono questi i charge i charge caricheranno una volta attivati tutto quello che noi abbiamo nel inventario che ha bisogno di energia prendendolo dalla nostra riserva questo servirà quando vorrò fare che tra poco farò ma non subito perché non i materiali per volare il jetpack perché il jetpack qui è l'arma vincente perché l'anello permette di volare solo in alcune zone e il jetpack per sempre ovunque e col potenziamento che farò con questo che c'è il charger più alto c'è il charger da 4000 ecco non mi veniva da 20.000 ecco da 20.000 potrò volare all'infinito perché dopo con i pannelli solari potenti che ne faremo un bel po avremo sempre l'energia con il capacitor bank abbiamo la nostra carica di riserva insomma non abbiamo problemi quindi mi devo fare un sacco di queste cose qui mi ci devo mettere con il bomb meal e fare poi soprattutto devo prendere questi tronchi e preparare il bospone ma faremo tutto nel prossimo episodio perché se iniziamo adesso ci mettiamo 10 anni però già posso iniziare a fare la base allora qui mi serve intanto a poi un'altra cosa perché si chiama random thing questa cosa mod thing ok random thing ha tante cose interessanti molti sono stati disabilitati in questo mod pack in questo mod pack molti crafting li hanno tolti proprio perché troppo OP o perché volevano che si usasse un'altra mod che aveva più o meno una crafting similare insomma all'utilizzo che era similare a quella cosa così l'hanno fatto per evitare di usare solo una mod così le usi un po' tutte quindi la project team mancheranno molte cose ve lo dico subito allora dove sono quelli che mi interessavano questi sono i charge che arrivano fino a 20.000 questo infinito non è possibile farlo in questo pack allora c'era quello che mi interessava tanto era qui no infinito no no questo no questo qui ecco l'ender packet coil questo qui ci permetterà di fare il wireless da 20.000 RF è bellissimo ovviamente non lo farò adesso perché non ho 20.000 e non ho tutta questa ender pearl quindi siamo sempre al punto da capo dovrò andare dopo nell'end a prendere un po' di ender livi ma tutto questo lo faremo poi comunque stiamo già creando la base per farlo adesso ve l'ho spiegato perché questo va attaccato cioè da qualche parte la deve prendere l'energia non è che la prende così da niente userà un spectre energy scusate spectre energy che è questo ok questo qui è abbastanza facile fare solo che ci vuole un'anedestar quello è il problema di base per fare un'anedestar dobbiamo ammazzare il weeder boss che non è così difficile perché basta imprigionarlo e poi sparargli comunque tutte cose che non possiamo fare adesso però tanto la base l'abbiamo fatta e di questo sono contento allora io adesso mi metto il camera un po' il bone ce l'ho no perché io metto ma poi se non ho un cazzo voi li vedete come faccio fatemi vedere un po' bone ce l'ho qui 64 poi ne ho un po' anche ne ho quante ne volete posso duplicarlo in senso ottimizzare la produzione perché così così normalmente ne fa 3 ma ce ne fa 4 non mi sembra caso questo ne fa 4 ma è una palla questo qui no questo è il crafting questo è il pot non mi interessa questo ne fa 6 ma adesso non è caso di farlo il polverizzatore della thermal expansion ne fa 6 beh io direi che avento lui ok mi metto a fare un po' di queste cose per fare più legni possibili e ci vediamo fra poco ok non è uscita tantissima però meglio di niente insomma meglio di un calcio nelle palle allora facciamo così vediamo un po' devo fare ancora la stanza che vi dicevo delle armature ma dopo questo è un altro paio di maniche ce l'ho fatta allora andiamo pure allora mi serve mi sono ricordato la droppo v-ball perché io questo lo devo rompere se io rompo questo come la faccio la droppo v-ball allora vediamo un po' qua non è che me l'hai droppato vero non me l'hai droppata qua guardate quante ne ho di ste cose non mi ha tolto cioè è proprio sfiga questo è mio e non c'è niente da fare niente lo riattivo un attimo vado off camera e cerco di di avere fortuna dov'è la mia witch water no perché la fortuna la vorrei anche un po' chiamare sapete ecco qua così me la richiamo un pochino va bene dai ci vediamo fra poco perché devo fare questa roba a dopo allora sono un attimo nei guai perché mi è uscito fuori un guider porca miseria mi ha seguito mi ha spaccato il culo mi sono tolto le abilità di bon miller così a meno se muoio non perdo troppo e lo scheletro è lì che mi aspetta che bello avere il legno trasparente abbiate pazienza adesso se te lo decido al massimo se muoio non perdo niente a dopo ok ce l'ho fatta cosa mi ha dato un cazzo perfetto io sono abbastanza soddisfatto non mi ha dato ancora un cazzo di niente però almeno ce l'ho fatta purtroppo quando uso quella cosa lì i guider scappano qui mi prende lo stesso allora vediamo un pochino di farcela ecco subito due addirittura ma porca miseria bastardi no io due non ce la posso mai fare a farli messo così io sto non abbiamo piccolissimissimissimissimissimissimissim un problema che dovrò risolvere in qualche modo vabbè a dopo ok ragazzi ce l'ho fatta ma niente è troppo vivo porca miseria se è tosto riuscire a farcela purtroppo non è molto semplice ci proverò continuo così e vediamo bene a dopo mamma mia ho dovuto usare anche la pozione della vita ce l'ho fatta ma non ci credo è stato veramente un incubo ho dovuto amazzare tanti ma tanti tanti però ce l'abbiamo fatta questa alla fine era importante chiamiamo un po' di roba ho lasciato la cosa qui scusate è un macello è stato un macello allora adesso disattivo il tutto mettiamo mettiamo questo è un weeder adesso se me ne da un'altra e dopo vivo mi cazzo perché insomma non si fa così ma la fortuna non me l'ha data dai ma le da veramente raramente non avendo la spada di looting lo so che è un bel casino però ok possiamo rompere questo coso così siamo a posto e ho fatto una cacata ho fatto una cacata l'importante è saperlo insomma si ho fatto una bella cacata e adesso la pago va bene non importa sistemo il tutto e ci vediamo dopo allora ragazzi la base è molto semplice di là è come al solito che noi andiamo qua e ammazziamo e di qua sarà uguale quindi potremo ammazzare dopo avrò lo scalino altrimenti potremo ammazzare sia qua che là è una figata senza fine questo mob spawner e quindi si fa così vi faccio vedere come si fa la base poi dopo ognuno fa come vuole io lo faccio così non è che siete obbligati a fare come dico io allora questo lo apriamo perché qui qui cadranno quindi io loro avranno i loro piedi e io gli nomaterò come al solito come al mio solito mettiamo un po' di roba qui e niente io adesso cosa faccio qui faccio le pareti con il con questo qui trasparente così così ecco qua e lo faccio anche di là così cosa succede che quando noi vedremo da lontano tutti i mob che cadono e quando arriviamo qua pa 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 con poco anche a mani nude lo possiamo fare ma così possiamo fare una spada con la tinker che abbia molto fortuna molto saccheggio oppure un incantamento con l'ender io insomma ci facciamo quello che vogliamo ragazzi con molto saccheggio così possiamo fare però la cosa che a me mi interessava molto perché lo faccio manuale adesso e dopo lo farò automatico perché è facilissimo farlo automatico quello che mi interessava a me è della mystical agriculture che è questo vi faccio vedere un attrezzo che mi servirà per prendere i chunk per prendere i chunk potrò dopo fare l'orto dei drop dei mob e la cosa è molto interessante così tipo gli puoi vedere sparo se mi viene in mente lo ve l'ho detto troppo in fretta comunque il drop dei mob in pratica dove la trovo questa spada è una spadina eccola qui questa qui la mettiamo subito tra i preferiti e dobbiamo fare questa spada qua che ci darà i chunk quindi per quello che devo cederli a mano e per fare questo non è neanche difficilissimo è solo una palla e dobbiamo fare questa che si fa così con la soul dust che si fa con la soul stone che troviamo nel nether la prendiamo la maciniamo no la cuociamo una volta cotta la mischiamo con quel tier 2 dell'essence e faremo questo che a sua volta cuocineremo e poi finalmente potremo fare sta cavolo di spadina è un po' un dan però si fa quindi ragazzi io faccio il mio boss che vado su abbastanza per far danno che non muoiono poi ci vediamo dopo che faccio tutto il pavimento praticamente il pavimento che era qua lo riproduco sopra tutto qua però la differenza che farò siccome mi sembrava di aver visto 15 piume che sono interessanti vediamo se ne abbiamo delle altre no? tutte qua vediamo se qui c'è qualcosa di piuma non c'è neanche una piuma là non c'è neanche una piuma là vediamo se c'è qualche piuma qui le piume non le danno è impossibile non è un drop delle cose va bene io dicevo scusatemi che questo qui lo farò più in là vedete di altri uno a destra e uno a sinistra e lo farò di due o tre quindi lo farò tanto largo tanto la piattaforma di spawning dopo che andranno a convergere tutti quanti qua cosa voglio fare qua? volevo mettere anche quelli che mi vanno a convergere in un unico punto perché dopo mi servirà il pink slime e vabbè tutta una serie di cose comunque ragazzi non vi preoccupate vi spiegherò sempre tutto io faccio così spiego sempre poi se volete vederlo mi fa piacere se non volete saltare amen quindi farò la piattaforma e nel prossimo episodio vi farò vedere come fare vi spiego adesso a voce la tirerò su più che posso faccio dopo un pavimento con la terra lo faccio diventare con la droppovie ball prima di fare questo però monto tutta sta roba qui e vi faccio vedere a lavori non ultimati ma quasi quindi per il momento io vi invito a lasciare un like al commento se vi piace la serie fammi sapere cosa ne pensate così per far due chiacchiere e per adesso vi do un saluto massiva ciao ciao